La tecnica BAT è una strategia chirurgica. L'acronimo BAT, che vuol dire Bloodless Atraumatic Technique, identifica proprio una serie di tecniche chirurgiche che hanno e che fondano proprio la loro azione in una strategia che sia atraumatica, quindi con poco traumatismo per i tessuti, e fondamentalmente fatta in assenza di sanguinamento. In che maniera è possibile raggiungere questa atraumaticità e questa assenza di sanguinamento? Per quanto riguarda la traumaticità, vengono messe in atto manualità estremamente attente, vengono impiegate delle apparecchiature estremamente sofisticate che permettono proprio di trattare i tessuti con la dovuta attenzione e soprattutto cercando quella delicatezza che in effetti è fondamentale non solo per ridurre proprio i tempi di postoperatorio del paziente, ma tendenzialmente anche le complicanze a distanza. Per quanto riguarda la perdita di sangue intraoperatoria, in effetti abbiamo abbandonato tutti quegli strumenti che per anni avevamo impiegato, come le forbici piuttosto che alcune pinze estremamente traumatiche, e abbiamo impiegato proprio non solo degli strumenti che ci danno appunto la possibilità di eseguire dei tagli con immediata azione sul sangue e soprattutto valutando anche quella che è l'emostasi, cioè quella azione che il chirurgo deve fare per ridurre il sanguinamento intraoperatorio.